Pagakko, tu hai per caso forza? Hai per caso chi? Forza? Perchè io me la sono dimenticata Ce l'ho, ce l'ho Che schifo la vita Allora deposita, tm a caso e... Ah una carmellrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Via il carbone, via iron, basta Vidro...dove? Dove? 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 Gold teeth ci andiamo a dare i denti d'oro al guardiano della zona safari la diamo al votaro ciao rage si è stata utile la prima generazione è l'unica generazione in cui le mosse mn non sono proprio così a parte flash guadali non dovrebbe nemmeno esistere o almeno fare danno ed essere tipo elettro almeno questo allora facciamo come ha fatto pacco il pazzo pagliaccio e facciamo surf ciao cloister ti presento dio codobro codobro cazzo me l'ha quasi no me l'ha sciuttato vabbè se mi sta a finire quell'entimazzo joseph giusto boh rolling kick accasissimo wow l'ho stuporato lo stesso con rolling kick ma che bello una papera c'è un mostro no veramente lo spai sembra quello di una papera la cosa divertente è che in giallo gli sprite erano anche leggermente meglio rispetto a il rosso è verde porca p***a dunque dove devo andare di qua matonna ragazzi marcio sghino si si ce l'ho la medaglia vattene a fare in culo anche tu surf dai zittu cretino ma chi cazzo l'ha fatto il level design di questo gioco me lo volevo una scimmia salute mi hai distrutto di nuovo le orecchie questo era voluto devi morire lo sai ok bravi sai che sono quasi alla fine delle vittorie cazzo sono alla fine ciao si ma adesso ti raggiungo anch'io è la roba più semplice del mondo sta cosa sposta qualche masso batti qualche allenatore a caso ok sei finito però non devo velocizzare troppo che altrimenti ciao mentre ti aspetto vado un po' ad allenarmi la mia vittoria si fai beh ti ricordi bene o male che livello avessero i pokemon ciao sono la tua versione evoluta perchè sei al 42 e non sei ancora vabbè cosa ti ricordi che livello fosse il super 4 alti quanto alti tanto alti oh idropompa mi chiam subito che livello lo impara scusa al 52 fi ce l'hai già al 52 senti ho fatto ho fatto blaine giovanni avivittoria solamente con lui e c'ha risar però c'ha risar del 41 cioè tu hai un po' che un OP mentre io c'ho la squadra bilanciata dopo tutto ma tanto dovrei comunque allenarti di tutti eh beh per forza che bello avere la possibilità di velocizzare il gioco eh a volte è bellissimo a volte no tipo la torre dei cieli non puoi velocizzarlo maronne ma quelli di twitchy place pokemon come ha fatto pokemon smelato ma perchè hanno fatto anche la torre dei cieli eh si in pokemon smelato si è obbligato a farla uuuuuh diiiiioo chi sei tu che sei tu che sei si però smettila di missare per favore non posso sprecare tutte le pozioni su di te eh che cazzo oddio questo qui ha mister mime è creepy molti adesso scommetti che mi denunciano alla peta per il maltrattamento di pokemon ti denunziano ho trovato un gol ma che bellino che sei è comunque buongiornissimo vai a fare il culo ooooo allora dov'è avdol devo sempre fare quello cattivo vai via parasec di merda polnareff vuole imparare crescita bravo complimenti al livello 43 cosa è tempo di allenare super mario vai così è tempo di combattere e intanto stoppo e metto tipo avon come immagine mentre tu finisci ok si perchè te sono stronzo e non aspetti gli amici esatto ciao vedete perchè pacco è stronzo oh no es ho finito puoi togliere il fermo immagine di avon ah ah coglione dai che alla prossima puntata ci ritroviamo tutti quanti per battere la lega e mi sa che devo fare un po' di allenamento Grazie a tutti.